Parliamo ancora di giovani con il cinema insegnato ai ragazzi. Il progetto presentato stamattina a Pescara coinvolgerà più di 150 adolescenti che vivono a Rancitelli e a San Donato. Gianni Quagliarella. La vita è bella, come sottolineano le note di Martina Perretti, prof di musica del Foscolo di Pescara. E può essere bella anche a Rancitelli e San Donato se ai ragazzi che vivono in quartieri difficili dai un'opportunità, come un corso di cinema per apprendere e poi raccontarsi senza filtri davanti a microfono e macchina da presa. Si chiama Cineager, il progetto studiato per 150 ragazzi dagli 11 ai 18 anni. Saranno loro i protagonisti del lungometraggio Il Confine. Il regista Walter Nanni ci mette il cuore. All'inizio un corso di cinema gratuito per tutti i ragazzi del quartiere e poi la realizzazione di un documentario che racconta le storie dei ragazzi di questo quartiere in maniera anche molto ironica. Si parte il 7 febbraio. Quattro le scuole accomunate dal progetto. Teresa Ascione, preside del Foscolo e garante dell'infanzia del comune di Pescara. Il riscatto è promozione culturale, sociale e quindi speriamo anche economica perché dobbiamo dare a questi ragazzi che alcuni dei quali non hanno diritto ad avere diritti. Progetto sostenuto da Corecom Università e garante per infanzia e adolescenza della regione. Cinema e cultura fondamentali per la crescita dei giovani, specie di aree urbane a rischio. Un'occasione importante per confrontarsi, per aprirsi a nuove esperienze. Io dico sempre che bisogna lavorare sul piano culturale per migliorare sempre più la qualità di questo territorio. I quartieri non devono avere differenze. Noi cerchiamo di uniformarli sia attraverso opere infrastrutturali ma soprattutto introducendo il concetto di cultura sviluppata su tutto il territorio.